Neonata in gravi condizioni sospesa la potestà dei genitori, controlli della polizia nel Nissano 3 arresti e 9 denunce, scommesse sportive e controlli in tutta la Sicilia, incidente stradale a Calta di Setta, sessantenne denunciato. I nostri battiti, nuovo singolo di Fabio Martorana dedicato al fratello Antonio. Bentrovati in questa edizione del nostro telegiornale. Neonata in gravi condizioni, sospesa la potestà dei genitori, avviata un'indagine per tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia dopo che la bimba era stata trasportata all'ospedale di Caricattì. Tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Sono queste le ipotesi di reato con cui il GIP del Tribunale di Agrigento, su richiesta della locale procura, ha disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori nei confronti di due giovani coniugi. La Polizia di Stato ha notificato al padre delle minori il divieto di avvicinamento alle figlie, il divieto di dimora da Agrigento e Aragona e l'obbligo di presentazione due volte a settimana presso il commissariato di Polizia. La misura cautelare scaturita dall'indagine della squadra mobile, coordinata dal pubblico ministero Gloria Andreoli, che ha riscontrato delle lesioni nei confronti di una neonata di sei mesi. Alla figlia, accompagnata dai familiari all'ospedale Barone Lombardo di Caricattì, i medici riscontrarono una serie di ecchimosi e traumi sul pub e alla testa, nonché un'emorragia cerebrale che richiedeva l'immediato trasferimento della bambina nell'isoccorso all'ospedale Policlinico di Messina, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica. Le indagini, supportate anche da attività tecniche, hanno permesso di scoprire i gravi indizi di colpevolezza a carico dei due coniugi, che secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbero attuato in maniera sistematica una serie di atti di maltrattamenti nei confronti della neonata. In seguito, quindi, la Procura ha richiesto al giudice per le indagini preliminari l'applicazione delle misure cautelari nei confronti dei due genitori. Controlli della Polizia nel Nisseno, tre arresti e nove denunce, eseguite, dieci perquisizioni. Tre gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato di Caltanissetta nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia, così come si evince anche dai canali social della Questura Nissena. E' ancora denunciata dall'autorità giudiziaria nove persone, eseguite, dieci perquisizioni personali e sequestrata a Ascish. Ed in particolare un 37enne è stato arrestato in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria, dovendo scontare due mesi di pena residua per danneggiamento. Due persone che si trovavano ai domiciliari sono state condotte in carcere per l'aggravamento della misura cautelare cui erano sottoposti. Due persone denunciate per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Un quarantenne sorvegliato speciale della pubblica sicurezza per violazione delle prescrizioni. Cinque persone sono state denunciate per furto, cioè un 37enne e un 17enne per aver asportato delle bottiglie di liquore da un supermercato. Due per furto in abitazione e un 47enne per tentato furto. Un ventenne, infine, sarebbe stato trovato in possesso di Ascish. Scommesse sportive in tutta la Sicilia. Una delicata attività di controllo, coordinata dalle procure di Agrigento e di Catania, è stata portata a termine nei confronti di 40 esercizi di scommesse in tutta la Sicilia. Fondamentale è stato il coinvolgimento dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo e delle sezioni operative territoriali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina e Trapani e la collaborazione dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. In totale sono state elevate sanzioni per circa 3 milioni di euro nell'ambito di una vasta operazione di controllo in materia di scommesse sportive online non autorizzate. In particolare nell'isola sono stati scoperti 13 punti di scommesse clandestini collegati telematicamente con serveri di società residenti all'estero prive di qualsiasi concessione e autorizzazione da parte della Questura. 18 le persone denunciate. Sono stati sequestrati inoltre 16 persone al computer adibite ai giochi d'azzardo vietati, 5 apparecchi con vincite in denaro e 10 totem utilizzati per giochi illegali. L'attività permetterà inoltre agli uffici fiscali di recuperare l'evasione dell'imposta dovuta sugli apparecchi con vincite in denaro e quella sulle scommesse non versate all'erario oltre all'applicazione delle sanzioni e degli interessi. A Caltanissetta si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura. Approntate efficaci strategie operative. Si è svolta nella mattinata di oggi presso la Prefettura di Caltanissetta una seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata a un'analisi dettagliata dei recenti episodi di furto presso taluni esercizi commerciali del capoluogo che hanno destato preoccupazione nella comunità locale. Alla riunione, presieduta dal Prefetto, hanno partecipato oltre ai vertici delle forze dell'Ordine anche il Sindaco di Caltanissetta e il Comandante della Polizia Municipale. Nella circostanza, il Prefetto, oltre a disporre una intensificazione dei servizi di controllo che saranno dispiegati in maniera strategica sul territorio, ha anticipato l'avvio di alcune importanti iniziative in tema di sicurezza, integrata e partecipata. Più in particolare, grazie alla fattiva collaborazione del Comune, verrà breve rafforzato l'apparato di videosorveglianza con specifico riferimento al centro storico e alle altre aree della città, ritenute più sensibili sul piano sulla pubblica sicurezza. Inoltre, è stata positivamente accolta la proposta del Prefetto di valutare l'avvio di interlocuzioni per la stipula con il Comune di un patto di vicinato, quale importante strumento non solo di cooperazione interistituzionale, ma anche di coinvolgimento attivo dei cittadini nel sistema sicurezza. Il Sindaco, che ha espresso apprezzamento per l'attività svolta dalla Prefettura e dalle Forze dell'Ordine, ha assicurato la massima collaborazione anche attraverso l'impiego del personale della Polizia Municipale. Incidente stradale a Caltanissetta denunciato un sessantenne dopo un test risultato positivo ai cannabinoidi. Un uomo di 63 anni di Caltanissetta è finito ieri pomeriggio nei guai a causa di un incidente. L'uomo, con la sua adagia, ha tamponato due auto in sosta e uno in movimento. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio in via Leone XIII. Il conducente della macchina in movimento ha inseguito l'uomo fino a via Malta, dove è riuscito a bloccarlo. Nel frattempo è stata avvertita la Polizia Municipale che si è precipitata sul posto. Una volta sceso dall'auto, il 63enne non si leggeva in piedi e ha iniziato a barcollare. Gli agenti, quindi, lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale Santeria di Caltanissetta per essere sottoposto alle analisi del sangue. L'uomo è risultato positivo ai cannabinoidi. Così per lui è scattato il ritiro della patente, il sequestro del mezzo, oltre alla denuncia per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Sciopero dei benzinai revocato. Tornano ad essere operativi tutti i distributori, anche i self-service. La serrata è durata solo 24 ore contro le annunciate 48. Feggica e Figgici Confcommercio hanno revocato la seconda giornata di sciopero a favore degli automobilisti, non certo del governo. A dichiararlo, le due sigle dei gestori degli impianti di benzina in una nota congiunta. La mobilitazione resta in piedi, ha detto il presidente della Feggica, Roberto Di Vincenzo, al termine dell'incontro. Pur riconoscendo di aver potuto interloquire in maniera costruttiva con il Ministero che si è speso per diventare interlocutore propositivo, l'incontro ha confermato il persistere di molte criticità. Le proposte mandative avanzate dal governo e dal suo stesso decreto non rimuovono l'intenzione manifesta di individuare i benzinai come destinatari di adempimenti confusi, controproducenti oltre che chiaramente accusatori. Appare ormai chiaro, aggiungono, che ogni tentativo di consigliare al governo ragionevolezza e concretezza non può o non vuole essere raccolto. Per questa ragione, anche insistere nel proseguire nell'azione di sciopero utilizzata per ottenere ascolto dal governo non ha più alcuna ragione di esistere. Tanto più che uno degli obiettivi fondamentali, vale a dire ristabilire dopo le accuse false scomposte verso una categoria di lavoratori, è stato abbondantemente raggiunto. I distributori quindi riapriranno già da questa sera. Regione ha approvato il disegno di legge bilancio 2023-2025. Schifani e Falcone, regolarità dei conti e minori debiti per la Regione, ma anche spesa per sviluppo e servizi. È stato approvato in Commissione bilancio dell'Ars il disegno di legge di bilancio 2023-2025. Vede la luce un bilancio dal valore complessivo di oltre 16,5 miliardi di euro che si articola su certezze contabili e che seguendo un principio di oculatezza riduce l'indebitamento complessivo dell'ente, afferma l'assessore regionale all'economia Marco Falcone. Inoltre aggiunge, grazie a specifici accantonamenti, teniamo conto di tutte le partite indicate dalla Corte dei Conti, ma anche reinvestiamo la cifra di 200 milioni di euro che abbiamo in entrata sulla base dell'accordo Stato-Regione per il recupero della maggiore spesa sanitaria. Prossimo argomento da trattare in Commissione intanto la legge di stabilità 2023. Procediamo con speditezza nel rispetto del calendario concordato con l'Aula dichiara il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nel varo dei documenti contabili della Regione, il tutto nell'ottica della regolarizzazione dei conti e per dare risposte concrete siciliani con una programmazione economica ragionevole e lungimirante che non penalizzi conclude lo sviluppo dell'isola e servizi ai cittadini. La Regione Siciliana contribuirà con un finanziamento di 726 mila euro alla realizzazione di 47 progetti di volontariato di organizzazioni e associazioni presenti sul territorio siciliano per mettere in atto iniziative e programmi di promozione sociale. Si tratta di enti che hanno risposto all'avviso pubblico del 22 giugno scorso accordo di programma. Contributi per la realizzazione di attività di interesse generale sono due gli obiettivi generali previsti dal bando. Il primo rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Ha visto 36 progetti a giudicarsi l'importo di 556 mila 197 euro. Sono invece 11 i progetti ammessi per un totale di 170 mila euro con l'obiettivo di fornire un'educazione di qualità equa e inclusiva e opportunità di apprendimento permanente per tutti. Le richieste pervenute sono state in tutto 55. Parliamo adesso del cimitero Angeli, la segnalazione di un cittadino e la replica dell'assessore comunale Cettina Andaloro. Anche l'ultima dimora sembra non avere pace. È quello che un cittadino nisseno ci ha segnalato presso il cimitero Angeli, le cui condizioni sembrano poco accoglienti. Transenne ingustodite e pandofole lasciate ai bordi dei marciapiedi. Lapidi abbandonati ovunque, ancora con il nome del caro estinto. E poi degrado generalizzato, sporcizia, vialetti impraticabili perché pieni di buche e asfalto di velto. Assenza di manutenzione ed erba alta rendono questo luogo sacro del tutto in ospitale. Non sembra essere affatto un luogo di pietà, pianto e dolore. Di tutto questo ne abbiamo parlato con l'assessore con delega ai servizi cimiteriali Cettina Andaloro. Di solito il martedì ci sono lavori di stimolazione delle salme. Ieri è successo proprio questo, c'erano delle pantofole messe da parte per procedere all'estimolazione delle salme. Posso già dire che è stato tutto ripulito già oggi, da mattina a tardi, tutto già pulito. Dopo le dichiarazioni dell'assessore abbiamo verificato che le pantofole sono state tolte, ma il resto rimane immutato. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha ricevuto in visita ufficiale a Palazzo d'Orlean il comandante interregionale dell'Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, il generale di corpo d'armata Rosario Lorusso. Al termine del colloquio il governatore ha offerto in dono al generale un crest con i simboli della regione. È stato un incontro cordiale nel corso del quale, ha detto il presidente, abbiamo affrontato vari temi e ribadito la reciproca disponibilità a una collaborazione istituzionale tra Governo regionale e Guardia di Finanza. Ho manifestato il grande apprezzamento del Governo per l'impegno profuso quotidianamente dalle fiamme gialle al servizio della comunità e per la legalità. Torniamo a Caltanissetta. Installate nuove rotatorie, parla il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga. Sono state installate proprio in questi giorni delle nuove rotatorie in città, prima nell'incrocio tra Via Messina e Via Le Trieste, e poi nei due incroci presenti in zona Badia, proprio davanti alla chiesa di Santa Croce. Si tratta di strutture sempre mobili che hanno sostituito la segnaletica precedentemente utilizzata. Si prevede però l'inserimento di queste rotatorie anche in altri punti della città. Abbiamo di recente acquistato e quindi sono state fornite in questi giorni dei dispositivi che consentono di disciplinare meglio alcune aree di intersezione. Già la Badia era una soluzione di traffico esistente, però realizzata prevalentemente con segnaletica orizzontale e il palo verticale posizionato al centro dell'intersezione. Abbiamo inserito questo dispositivo, che sono delle piccole rotatorie realizzate con materiale plastico duro, sormontabili all'occorrenza, che dal nostro punto di vista agevola la svolta in prossimità di alcune intersezioni molto utilizzate, specie quella dell'Abbadia, ce ne sono due vicino, una con l'ingrocio con la via Red Italia e l'altra con l'ingrocio con la via Medaglie d'Oro, lì che sono state inserite. Qualche giorno fa ne avevamo inserito un'altra nell'intersezione tra la via Messina e via Trieste. Condiamo nei prossimi giorni anche di completare questo quadro di interventi con l'installazione di una piccola rotatoria di questo tipo, che poi serve prevalentemente a dare all'automobilista il punto di riferimento dove effettuare la svolta, perché molte volte si rischia poi di invadere l'aria destinata ai veicoli che provengono dalla corrente di traffico contraria. Questa nuova rotatoria che pensiamo di inserire nell'ingrocio di via Redentore con la via Messina, anche questa è un'area di intersezione dove in passato abbiamo pure registrato degli incidenti, riteniamo che questo dispositivo possa migliorare le condizioni di sicurezza di svolta in queste aree. Queste sono già state realizzate, nei prossimi giorni realizzeremo questa e abbiamo in programma anche altri interventi, anche nell'intersezione tra la via Amari e la via De Cosmi, prevediamo di inserire questo dispositivo. Abbiamo verificato che le dimensioni ci sono e serve anche noi a sperimentare se effettivamente migliorano le condizioni di sicurezza e se magari è necessario la realizzazione di un intervento infrastrutturale definitivo o comunque più permanente rispetto a queste che comunque rimangono sempre dei dispositivi mobili che possono essere facilmente rimossi perché sono tassellati e sormontabili. Prosegue inoltre il monitoraggio delle arterie cittadine per attuare dove necessario alcuni provvedimenti che possano migliorare la viabilità e renderla più sicura, ricordando il rispetto dei limiti di velocità. Sì, noi monitoriamo spesso queste cose accade, facciamo un'analisi degli incidenti stradali dove che noi rileviamo e a seguito di questo non solo ci limitiamo a rilevare gli incidenti, a definire l'eventuale inosservanza di norme da parte dei conducenti, ma traiamo anche elementi di valutazione in ordine a possibili miglioramenti nei cosiddetti punti neri della città. In questo quadro di interventi, per esempio, nelle prossime settimane installeremo dei dissuasori di velocità in alcune arterie stradali, su via Due Fontane, su via Luigi Monodo, su via Regina Margherita, su via Rochester, installeremo dei pannelli che rilevano la velocità degli automobilisti e la segnalano su un display proprio per sensibilizzare il conducente a tenere una condotta di guida adeguata ai limiti di velocità di quella strada. Regione siciliana, il governo Schifani chiude sei uffici speciali, nominati tre dirigenti generali. Nei giorni scorsi l'Aggiunta regionale ha deliberato la gestazione il 31 gennaio delle funzioni per cinque uffici speciali regionali temporanei, un termine anticipato rispetto alle scadenze stabilite e che riguarda gli uffici, progettazione le cui competenze transiteranno al Dipartimento regionale tecnico, si legge nel comunicato. Recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti, Ufficio Legislativo e Legale della Regione, Immigrazione, Dipartimento della Famiglia, Comunicazione per la Salute e Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, DASOE. Qualche mese in più invece per l'Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e per lo stralcio dei pregressi interventi Prof e OIF, che potrà rimanere in funzione fino al 31 dicembre, così da completare le certificazioni di spesa degli interventi a valere sul POFESR 2014-2020, dopodiché transiterà al Dipartimento dell'Istruzione. Una decisione presa sul proposto del governatore Renato Schifani nell'ottica della razionalizzazione prevista dalla legge regionale numero 10 del 2000 e del contenimento delle spese. Così come già annunciato, affermato il Presidente della Regione, riorganizziamo la macchina dell'amministrazione regionale. Il personale dei disciolti uffici speciali andrà a potenziare i dipartimenti nei quali è necessario rinforzare gli organici. Verranno riorganizzati in seguito, attraverso un apposito disegno di legge che sarà predisposto dall'assessore all'economia, si precisa ancora nel comunicato, anche liquidazione centrale unica di committenza, che al momento però proseguono la loro attività. Intanto sono stati nominati anche tre dirigenti generali di seconda fascia, Alberto Pulizzi, che rimarrà al Dipartimento regionale della Pesca, Antonio Cono Catrini al Dipartimento Turismo e Donata Giunta al Dipartimento degli Affari Extra-Regionali. Mentre non si è potuto procedere la nomina di un quarto dirigente di seconda fascia, si legge ancora nel comunicato stampa, in quanto ormai prossimo alla pensione. Prosegue in questo modo, ha detto il Presidente della Regione Renato Schifani, la riorganizzazione della macchina burocratica, che è la condizione essenziale per un funzionamento più snello ed efficiente dell'amministrazione regionale. Contiamo di completare il quadro delle nomine in breve tempo, affinché ogni Dipartimento abbia un assetto definitivo. Il Governo regionale ha abolito, tra gli altri, l'ufficio speciale per l'immigrazione, ma non la materia da esso trattata, così come previsto dalla delibera di giunta. Le competenze, infatti, passano al Dipartimento competente, nel caso specifico, a quello della famiglia e delle politiche sociali. A dichiararlo è il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, circa le polemiche sollevate da alcuni gruppi parlamentari dell'Ars dopo la soppressione di sei uffici speciali. Cambiamo argomento, parliamo adesso della leggenda del Gran Chiodoro, consensi e riconoscimenti per il regista Michele Falzone. Dopo un anno e mezzo circa di riprese, il film La leggenda del Gran Chiodoro è stato presentato alla città di San Cataldo a fine novembre. Da allora il film per la regia di Michele Falzone, tratto dalla storia scritta da Rocco Chignici, è stato riproposto in diversi concorsi sia nazionali che internazionali. In attesa di conoscere gli esiti, arrivano intanto le prime soddisfazioni. Ho voluto scommettere ancora di più su questo mio sogno che ho realizzato e stiamo partecipando a diversi festival nazionali e internazionali. tra cui sono 25 ad oggi i festival a cui siamo presenti e un primo festival abbiamo già ricevuto il premio come miglior film per famiglie adatte ai bambini. È il film festival delle Madonie e il 23 aprile avremo il piacere di partecipare all'evento della premiazione su questo lavoro che abbiamo fatto. Un film che parla del passato, delle abitudini di un tempo, il mondo della campagna rappresentato anche nella stessa locandina realizzata da Salvatore Fidone. Il film è una storia di contadini, una storia ambientata negli anni 40, quando non esistevano tutti i mezzi di oggi, televisioni, cellulari e quant'altro, e quindi le famiglie la sera si riunivano per raccontare una storia. c'era sempre il contadino più vecchio che raccontava la storia e quindi faceva appassionare tutta la famiglia. Da questa storia esce fuori il film della leggenda del Gran Chiodoro che ha appassionato grandi e piccini e ha fatto un attimino ha fatto emozionare e scuote un pochettino le nostre coscienze perché viviamo ormai in una società un po' presa da mille invegni e dimentichiamo i nostri valori. Si tratta della prima esperienza cinematografica per Michele Falsone che ha coinvolto per l'occasione molti concittadini 14 gli attori diverse le comparse presenti anche ai gruppi di ballo e musicisti. Il mio primo lavoro fatto con passione con amore coinvolgendo tanti amici e tante persone che ho a cuore che mi sono trovato durante la mia vita è stata una scommessa e sono pronta a fare altre scommesse. Parliamo adesso di musica. I nostri battiti è il nuovo singolo di Fabio Martorana il cantautore di origine sancataldese che dedica il brano al fratello Antonio. Dopo il senso che non vorrei da quasi 150.000 visualizzazioni su YouTube arriva I nostri battiti il nuovo singolo di Fabio Martorana che racconta del legame con il fratello Antonio a cui lo dedica così tra le trame della vita nonostante il dolore e la rabbia c'è sempre l'amore a prevalere. I nostri battiti l'ho scritta pensando profondamente al mio fratello al rapporto che potevo averci e al rapporto invece che ho con lui nonostante lui fisicamente non ci sia. È una canzone che anche se scritta con parole semplici poi tra l'altro dice sostanzialmente quello che vorrei potesse accadere cioè quello di riviverlo di avere la possibilità di poterlo rivivere. Penso che noi tutti noi esseri umani siamo consapevoli del fatto che la vita è anche questo che le persone che amiamo possono andare via ma dobbiamo nutrire una speranza dentro che è quella di poterli rivivere riabbracciare. L'amore non svanisce con la morte assolutamente se ami veramente l'amore non andrà mai via. Dal teatro al cinema fino alla musica un momento davvero positivo di grande crescita per l'artista siciliano che da tempo vive vicino Roma e che sta scalando le classifiche musicali indipendenti. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui vi lascio al meteo alle informazioni di pubblica utilità rimanete con noi. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì quando una circolazione di bassa pressione sarà ancora isolata sul Mediterraneo e centro-meridionale e quindi ancora precipitazioni attese al sud e sul medio adriatico. Al nord invece tendenza a un miglioramento. Nel dettaglio possiamo notare come ci saranno queste precipitazioni attorno al centro depressionario in quota fenomeni attesi dalle Marche alla Puglia in generale un po' tutto il sud anche la Sicilia vedrà rovesci temporali. In sintesi la mappa dell'Italia con l'instabilità attesa sul medio adriatico e soprattutto al sud anche a sfondo temporalesco. Neve sull'Appennino fin verso gli 800.000 metri di quota a quote anche più basse sull'Abruzzo e sulle Marche Meridionali. Al nord e sulla Toscana invece sole alternato un po' di variabilità di annuvolamenti ma senza rischio di piogge dettagli ulteriori scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Scarantino Via Paolo Emiliani Giudici Servizio notturno Messana Via Le Conte Testa Secca Grazie a tutti